Il testo è tratto dal libro Quaderni, dal 1945 al 1950, di Maria Valtorta, edito dal centro editoriale Valtortiano. 23 ottobre 1947 Dice Gesù Il tuo anno santo lo hai avuto nel tuo cinquantesimo anno. Mi hai avuto come tu sola sai. E resti in questo tuo anno giubilare, sinché esso ti si muterà in un secolo eterno di pace paradisiaca. Ma l'anno santo che verrà dovrà essere marcato da un suo carattere speciale, il carattere mariano. È stato celebrato l'anno santo straordinario, nel diciannovesimo centenario della mia passione. La sapienza infinita amerebbe che fosse celebrato anche questo altro centenario della assunzione gloriosa di mia madre al cielo, e che questa celebrazione desse uno speciale carattere al prossimo anno santo. La sapienza infinita amerebbe che fosse sentito questo dovere, questo bisogno, questa previdenza, di dare carattere di trionfo mariano, e perciò di incentivo al culto per Maria, salvezza vostra, in questo scorcio terribile di questo secolo terribile, nel quale può avvenire la completa apertura dei sette sigilli, per punizione di Dio, al prossimo anno santo. Già da troppi secoli, la cristianità attende questa proclamazione trionfale della Vergine Madre, da Dio assunta in cielo, per essere gioia a Dio, di cui fu tempio vivo in terra, e regina dei celesti cori e del popolo dei santi. In verità, molti dei sigilli sono stati già aperti, ma guai se fossero aperti tutti, e se lo saranno. Anticipate l'ora del trionfo della donna, capostipite dei segnati del segno dei servi di Dio, degli eletti, la cui dimora è il cielo. Anticipate l'ora del trionfo di Maria, su Satana, sul mondo, la materia, la morte, vinta da noi due volte, vinta in lei, creatura, anche nel non conoscere la morte spirituale del peccato, oltre che nella carne sua, che non si corruppe, e che qui vive. Anticipate l'ora del trionfo di Maria. Si uniscano agli angeli, capitanati da Michele, gli uomini, donne, fanciulli della Chiesa Una, Santa, Cattolica, Apostolica, Romana. Perché sia abbattuto, per un tempo, il dragone dalle sette teste, dieci corna, e sette diademi maledetti, le sette seduzioni. E la cristianità abbia tempo per riunirsi e fortificarsi nella carità e nella fede, e stringersi in difesa, per l'ultima battaglia. Guai, se venisse proclamata regina, la donna vestita di porpora e scarlatto, cui fattrono la bestia immonda dai nomi di bestemmia, prima che sia proclamata regina degli angeli e degli uomini, con parola infallibile, la donna vestita di sole, i cui piedi calcano la luna, e il cui capo si incorona di stelle. Non vi può più essere una seconda redenzione compiuta da me, Cristo. Ma ancora una ve ne può essere, per salvare dalle spire infernali, un più gran numero di spiriti, quella di Maria Gloriosa. Se sentiranno me nelle parole dell'opera, comunicherai queste altre parole a colui che sai. Grazie. 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 Grazie.